Maria, come stai? Bene. C'hai paura? No. Brava. E come mai non c'hai paura oggi? Ma sto tranquilla perché sono sicura alla fine del lavoro che ho fatto, quindi devo solo cantare. È normale che voglio vincere, però non ho paura. Cioè come ti devo dire, non sto anziata. Oh, domani finisce tutto. Grazie per avermelo ricordato. Già stamattina quando ho lasciato la sala 1 ho realizzato che non sarei più entrata in saletta. È impressione un po', vero? Mamma mia, ho cominciato a piangere davanti alla porta. Raffa con gli occhi lucidi. Ciao Raffa! Mamma mia, malinconia a mille, a pallettoni. Quella sì. Un po' sì. Certo, perché non sai che cosa succede.